Il Teatro Bucchetti e Madera Spettacoli presentano Tre orchestre insieme Evento 2017 Con Lara Agostini I Filadelfia Rossella Ferrari e Casanova Ospite d'onore Angelo Zibetti Tre orchestre insieme Mercoledì 14 giugno alle ore 21 Presso il Teatro Bucchetti in Via Carotta a Dadro, Brescia Info e prenotazioni 030 74 50 519 Oppure 335 52 11 916